Uno degli ultimi convegni di Expo ha visto il mezzogiorno protagonista organizzato dalla Confederazione Italiana Agricoltori alla ricerca dei fattori che possano fungere da stimolo per lo sviluppo delle regioni meridionali rappresentate dai presidenti di Puglia e Calabria. Senza dimenticare l'aspetto della criminalità organizzata che Michele Emiliano, presidente di Regione Puglia, definisce una infezione batterica e la cui alternativa è quella del lavoro quotidiano nel rispetto delle regole. E dal ministro delle politiche agricole Maurizio Martina sono arrivate parole di Speranza perché, dice, molte delle intuizioni più brillanti arrivano proprio dal sud e dai suoi giovani. Per un settore, quello agroalimentare, che deve poter creare un cambio di passo. Non mancano le risorse, ha concluso Martina, ma servono progetti. Noi dobbiamo lavorare di più su alcuni temi strutturali. Penso in particolare all'aggregazione d'impresa. Ci servono imprese più forti, più organizzate. Dobbiamo unire la forza dei produttori anche attraverso alcuni strumenti, cooperativi, contratti di filiera, contratti d'area. Ci sono questi strumenti, dobbiamo utilizzarli. Dobbiamo fare un salto di qualità nella logistica perché una buona produzione agroalimentare deve poter uscire da quei territori e andare nel mondo. Il mezzogiorno contribuisce in agricoltura quasi il doppio che le altre regioni italiane al PIL e questo evidentemente è un punto di forza. Un punto di forza che Martina con l'intelligenza ha colto, lo ha colto in un contesto molto rilevante, quello dell'Expo, che è un po' la sfida dell'Italia e dei sud del mondo ad un modello di sviluppo, quello precedente, basato sul consumismo e sulla omologazione anche nella filiera agroalimentare.